Don Michele Rossini, uno degli organizzatori delle parrocchie della Vicaria 3 del concerto di Simone Cristicchi, mercoledì 8 settembre alle 21.30 al Parco Miralfiori. Ecco, noi abbiamo pensato questo evento un po' soprattutto per i giovani ma anche per tutti coloro che lo desiderano, proprio perché vogliamo che questo momento sia un momento di riflessione, conoscendo Cristicchi come un cantautore attento soprattutto ai valori dell'uomo, ai valori della vita. E in questo momento segnato anche un po' dalla paura, segnato un po' anche dal vuoto causato dal coronavirus, ecco ci sembrava bello riprendere, ripartire un po' anche con tutte le attività pastorali, con un momento di riflessione, un momento di festa, un momento di speranza. Durante il tempo del lockdown noi abbiamo riflettuto molto, soprattutto con i bambini, sulle cose che contano. E infatti ecco il titolo che abbiamo voluto dare a questo concerto è proprio le cose che contano. Cioè riflettere su quello che è l'essenziale della vita e cercare di seguire l'essenziale. E in questo sicuramente Cristicchi ci dà un bel aiuto. Con le indicazioni tecniche sono intanto che il biglietto è molto popolare proprio perché abbiamo voluto fare in modo che partecipino tutti, specialmente qui giovani, quindi costa poco più di 10 euro. Ecco bisogna prenderlo su Viva Ticket e quindi fare diciamo le procedure che sono richieste per poter registrarsi. Una delle nostre parrocchie ha lavorato con un gruppo di ragazzi su un testo di Simone Cristicchi facendo un buon lavoro e vedendo come attraverso le parole di questo nostro cantautore c'è la possibilità di riflettere, di andare a fondo, di trovare quelle cose che contano nella nostra vita. Insieme a Simone Cristicchi si esabirà in apertura una band di persone disabili, giusto Don Lorenzo? Sì questa è l'idea proprio per dare a questo concerto testimonianza già bello in sé ma proprio un valore in più. e abbiamo pensato di invitare questa band, la Vaga Band, costituita da ragazzi disabili, dovrebbero essere otto elementi che cantano, si esibiscono, ecco che danno questo così bel segno insomma.